Sono Lucia Margheriti, sono una sismologa che lavora all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, un istituto che si occupa del monitoraggio sismico del territorio nazionale vulcanico. Noi con questa manovra rischiamo di mandare a casa circa 200 precari che lavorano nel nostro istituto da anni, che sono stati inseriti nelle liste di stabilizzazione ma non si è potuti stabilizzarli perché non abbiamo abbastanza pianta organica per stabilizzarli. E quindi questo taglio del 50% che è previsto dalla manovra per i fondi per pagare i precari ci costerà gran parte del nostro personale che contribuisce attivamente al monitoraggio del territorio nazionale. Questa è la conseguenza per noi più grave. Poi restano tutte le altre come il blocco delle carriere che chiaramente per un ente di ricerca è molto importante avere lo stimolo per i ricercatori per poter progredire. Anche lo stesso blocco delle missioni all'estero, siamo stati accomunati in questa manovra agli enti pubblici in generale e quindi questo ci bloccherà la possibilità di avere contatti con i colleghi stranieri e con le altre ente di ricerca. Che qualificate sono questi precari che rischiano, anzi verranno mandati a casa? Sono laureati, sono gente qualificata? Sono gente laureata e che oltre ad essere laureata lavora nel nostro istituto ormai da anni e che ha acquisito quindi una professionalità specializzata. Tra l'altro il nostro istituto è stato citato dallo Science Watch come uno degli istituti che hanno pubblicato i più articoli sia nel campo vulcanologico che nel campo della sismologia in questi anni. Quindi diciamo che chiaramente sono delle professionalità che non è che ritroveremo con un nuovo precariato magari di neolaureati. Sono persone che dopo aver speso anni e anni nella formazione, anni e anni che tra l'altro abbiamo pagato noi come Stato, rischiamo di perderli. State attuando delle forme di protesta? State attuando delle forme di protesta, occupazioni, manifestazioni, scioperi? Per ora abbiamo partecipato sia a manifestazioni che agli scioperi quando sono stati proclamati. Non abbiamo mai attuato delle forme di occupazione perché diciamo il nostro istituto occupandosi, svolgendo questo monitoraggio 24 ore su 24 ha un ruolo particolarmente delicato. Quindi per ora abbiamo ritenuto di non voler di essere responsabile, di non voler bloccare questo servizio così fondamentale. Un blog attraverso il quale seguirti? Sì, allora il blog si chiama Precari INGV, tutto attaccato. Grazie.